L'entusiasmo, ambizione e fiducia. Il nuovo Chieti si presenta con il mix giusto per affrontare il prossimo campionato di Serie D. Gli applausi convinti che piovono dalla tribuna dell'Angelini hanno accompagnato squadra, tecnici, dirigenti e sponsor sul palco per la presentazione ufficiale. Trasformando la serata in una festa rigorosamente nero-verde. Ed ora sentiamo alcuni dei protagonisti. Mister Chianese, una cosa la possiamo dire, è un Chieti sicuramente ambizioso quello che si è presentato questa sera ai suoi tifosi? Sicuramente, sicuramente. Nascondersi non sia corretto. È una squadra costruita dalla mia società, dal mio direttore, nei minimi dettagli, con giocatori di assoluto valore, con dei professionisti che si sono subito messi a disposizione. Ed è giusto quello che ha detto. Qui sulla tribuna dell'Angelini in tanti vi hanno incitato applausi convinti, ma anche e soprattutto chiedono un campionato da protagonisti. È giusto che il tifoso paga il biglietto, è giusto che abbia delle ambizioni, come noi abbiamo delle ambizioni, come abbiamo delle ambizioni, ma soprattutto i miei giocatori hanno delle ambizioni. Al di là dei moduli, dei sistemi di gioco, vedremo un Chieti, in base anche alla rosa allestita, più votato all'attacco. Il nostro campionato ci dice che io posso fare cinque sostituzioni, quindi il 50% dei giocatori di movimento possono essere cambiati. Le partite ormai non si vedono più su chi inizia la partita, ma si vede sui cento minuti. Ho una squadra, una rosa importante, dove a secondo delle partite, a secondo delle situazioni, è normale che faremo delle partite. Quello che posso dire saranno le partite sempre di attacco, nel senso che dovremmo sempre imporre il nostro gioco. Se questo ci riusciamo vorrà dire che siamo stati bravi, se non accade vorrà dire che qualche cosa va rivisto. Cristiano Napoglio è stata una serata sicuramente all'insegna dell'entusiasmo, è stata presentata la nuova stagione, o meglio la squadra che affronterà la nuova stagione. Insomma, voi siete contenti anche un po' di tutto quello che vi aspetta? Sì, siamo contenti della risposta della piazza e speriamo di essere bravi noi a far rendere la piazza sempre più calorosa. Anche perché Chieti è una città che aspetta da troppo tempo di tornare fra i professionisti e questa società sicuramente sta facendo, continuerà a fare, ma posso dire che le basi le ha poste in essere in quest'estate, partendo poi dalla programmazione dell'anno scorso. Il Chieti c'è però? Sì, io penso che sarà veramente un campionato che non vedo l'ora che inizi perché penso che sarà vincente. Anzi, permettimi di fare un ringraziamento particolare proprio a Rete 8, perché ci saranno delle belle sorprese che con la proprietà sono state decise. Abbiamo pensato a un qualcosa che possa essere un ulteriore regalo per la piazza di Chieti che da troppi anni ha visto in maniera intermittente le proprie giocate, le proprie azioni, i propri uomini e sinceramente avere un emittente che sposa un progetto insieme ovviamente ad altre importantissime società abruzzesi a noi non può che far piacere. Michele Spinelli, confermato nel Chieti, confermato come capitano, intanto una bella soddisfazione credo, no? Sì, è un grande onore essere qui, indossare questa fascia importante di una piazza così storica e sono molto felice. Piazza importante, la Curva Volpi vi ha applaudito anche qui in sede di presentazione. Sì, sono stati davvero calorosi e noi sappiamo che loro saranno il nostro dodicesimo uomo in campo e ci daranno un apporto fondamentale, anzi molto importante, che ci aiuterà tanto. Forza Ghegnalli!